Sono 59.860 le dosi di vaccino somministrate durante i Vax dei Calabresi che si sono svolti dal 1 al 4 maggio. Le quattro giornate speciali di campagna vaccinale nel segno del quadrifoglio e con lo slogan La Calabria mette la quarta sono state promosse da Regione, Commissario della Sanità, Protezione Civile, Difesa e Croce Rossa. In questa quattro giorni presso l'Hub vaccinale La Locomotiva di Castrovillari sono state somministrate bene 2.030 dosi. Non servono parole, sono i dati e i fatti, commenta il Presidente della Regione Nino Spirli, a fornire una narrazione esatta di quanto avvenuto negli ultimi quattro giorni e più in generale nelle ultime settimane di questa campagna vaccinale. Stiamo offrendo una bella immagine della Calabria, di un territorio che vuole ripartire al più presto e ritornare alla normalità. È doveroso, dice Spirli, ringraziare tutti i medici, gli operatori e i volontari per il loro impegno quotidiano e il loro sacrificio a favore della comunità calabrese. Dopo un inizio difficile dovuto anche al vuoto amministrativo causato dall'assenza dei commissari, delle aziende sanitarie e ospedaliere, abbiamo invertito la rotta in modo deciso. Uno sforzo che ora ci viene riconosciuto anche a livello nazionale. Siamo sulla strada giusta e non torneremo indietro. Abbiamo messo veramente la quarta e si tratta, afferma il dirigente generale della ProCiv Varone, di un risultato ottimo perché ogni giorno sono stati superati tutti i target, grazie ad un lavoro straordinario che ci ha consentito di aver ben 21 centri vaccinali dislocati su tutto il territorio, oltre ai 90 punti già presenti. Al momento quello che intendiamo fare è stabilizzarci sul target delle 15.000-16.000 somministrazioni al giorno e risalire la classifica nazionale. Bisogna precisare, dice Varone, che in questi giorni sono rimaste libere tantissime prenotazioni per persone comprese nella fascia di età tra i 60 e i 79 anni, segno che c'è ancora una certa diffidenza nei confronti della vaccinazione e in particolare del vaccino AstraZeneca. Paure che dopo il consulto medico vengono subito dissipate. Invitiamo quindi tutti a vaccinarsi anche perché occorre finire prima le categorie che attualmente hanno diritto per poi aprire alle altre. Intanto dal 30 aprile è possibile anche per i caregiver prenotarsi sulla piattaforma online oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando un sms al 339 99 03 947 per essere ricondattati. Per le prenotazioni www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it www.prenotazioni.covid.gov.it